Per la terza volta in assoluto Marco Amato si aggiudica il palio della stuzza di Castellabate conquistando la bandiera posta all'estremità del palo di legno cosparso di grasso animale e posizionato sul lungomare Perrotti di Santa Maria di Castellabate a completare il podio della 118esima edizione lo storico appuntamento agostano sono stati Francesco Federico secondo posto e Marco Rizzo terzo posto. Finalmente dopo qualche anno di assenza perché l'ho vinto nel 2014 e nel 2015 è arrivata questa vittoria ci tenevo e ci speravo mi sarei contentato anche di un terzo posto però il primo è sempre un'altra cosa. È sempre una grande emozione vincere a casa propria? Sempre sempre noi che facciamo la stuzza ci teniamo tantissimo sia ad organizzarla perché chiaramente è una cosa molto sentita tra noi, tra noi amici infatti ci prendiamo in giro spesso su queste cose chi vince chi perde. È veramente emozionante sia partecipare e soprattutto vincere. È andato tutto bene nessuno si è fatto male ci siamo divertiti anche quest'anno e con tante new entry con tante new entry pronte a portare avanti questa tradizione che grazie a tutti quanti va avanti ci vediamo l'anno prossimo cercando di vincere. Io ho una grande ispirazione mio padre non viene mai a Santa Maria ma è lì e non posso che donargli quello che posso al momento una bandiera e ancora una volta ce l'ho fatta. Grazie a tutti i ragazzi che fanno un duro lavoro per mettere il palo io disgraziatamente non posso aiutare sono a spalla un pochettino malandata però sono qui a rispettare il paese le tradizioni e ancora una volta grazie a tutti. Noi abbiamo il dovere e io mi impegno a vedere qual è la procedura affinché questa manifestazione che appunto sono 118 anni possa essere scritta ritengo in un albo che che attesti la validità storica così come tante altre manifestazioni di questo livello abbiamo in Italia sicuramente molto ma molto più conosciute affinché anche la stuzza possa rientrare in questo discorso. Anche a Pozzuoli c'è un palio simile a quello che si tiene qui nel Cilento? Sì Pozzuoli si chiama Upenuna perché appunto questo è il nome dato al palo ingrassato o palo di sapone è una festa molto sentita a cui accedono solo possono partecipare soltanto i pescatori di Pozzuoli nessun altro è una festa antichissima con vari amici abbiamo iniziato una serie di ricerche storiche si risale alla fine del Settecento e io sono qui proprio perché sono incuriosito da questa festa che non ho mai confesso non ho mai non ho mai visto a cui non ho mai assistito per fotografarla e portare questa testimonianza ai miei conterranei perché io spero in un in un gemellaggio in una forma di conoscenza reciproca perché le somiglianze sono effettivamente incredibili. Quest'anno è stata veramente un po' più difficoltosa rispetto agli altri anni abbiamo avuto comunque qualche imprevisto in mattinata per il palo abbiamo ritardato di un'oretta il palio però noi come ogni anno non ce ne rendiamo mai anche questi piccoli imprevisti e stiamo qua per la 18esima edizione e l'abbiamo portata a termine alla grande. Io vi do un grandissimo saluto e vi do un grandissimo appuntamento all'anno prossimo e chiedo ai giovani fatevi avanti per questo palo che è bello perché voglio molti giovani basta do questo appello a me mi conoscono nel numero di telefono logicamente del posto perché l'astuzza si possono fare il numero del posto do questo proprio appello ai giovani che si devono fare avanti perché oggi sono rientrati due o tre giovani è una cosa bella per mantenere sempre più vive la tradizione ringrazio a tutti